Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi Fort White numero 28, molto particolare! Quello di oggi ci chiede di risolvere un mistero per poterlo sbloccare! Come vedete ragazzi siamo molto vicini a Palmetto Paradisiaco, esattamente nel gruppo di rottami presenti un po' più a sud di Palmetto e il minigame che dobbiamo risolvere è proprio questo, il memory game! Noi guardiamo i colori, rosso, arancio, viola, arancio! Una volta fatto, dobbiamo ripetere la sequenza ragazzi! Un paio di volte molto probabilmente! Va bene io ho sbagliato ma una volta che ripeterete ragazzi la sequenza corretta una, due, forse tre volte, il Fort White apparirà proprio davanti a voi! Io vi ringrazio per aver guardato questo video, un bel pollicione in su! Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live! Ciao! Ciao! Ciao!